Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi faccio un nuovo vloghettino, li voglio mettere anche abbastanza regolari, un po' per spezzare video normali Se non voglio che sia un canale soltanto di cosa ne penso, ma vi ricordateci voglio mettere anche un pochino nel mezzo di gameplay e di vlog Voglio fare questo video buoni propositi, ovviamente per il futuro, per il 2021 Sperando che non sia come il 2020, non le mani, mettiamo le corna avanti E volevo fare un pochino così una chiacchierata, andandomi poi a dire quello che vorrei che accadesse in un immediato futuro Meglio se nel prossimo anno, nel 2021, ma si spera comunque in tempi abbastanza brevi Si fa una chiacchierata dopo la sigla Iniziando come primo buon proposito di tutta questa lista qui Ovviamente quello che mi piacerebbe per di tutti, però siamo già, ve lo dico siamo già No a metà strada, siamo già comunque lungo la via Stiamo cambiando abitazione, quindi comunque nel giro di mesi Io spero anche qui il meno possibile, che non ci vogliano anni intero Dovremo cambiare casa E ci andremo a scegliere una casa sicuramente più grande, ma non tanto più grande o più piccola Scelta un po' meglio a livello anche di ufficio, di illuminazione e tutto quanto Perché il problema che abbiamo avuto finora Che farei fare una carrellata a mia moglie per farvi vedere intorno come ci siamo organizzati Per mettere le luci e già ora mi vedete da una parte in luce, da una parte in ombra Cioè immaginatevi voi a fare video anche un pochino più professionali Già ci siamo organizzati con quello che ci sa Ci sarebbe garbato come primo buon proposito di avere un ufficio Un ufficio non vuol dire un ufficio dedicato, fuori casa, un fondo commerciale No, di avere una stanza in casa e non un soppalco di... Quanto sarà amore? 8 metri? Ah sì, una decina Una decina di metri, ma nemmeno scarsi Di avere un soppalco piccolo, nello così, collato col soffitto Dove ci picchi la testa, non ci sta nemmeno rito, ma nemmeno nobit ci starebbe Quindi vorremmo una stanza dedicata ad ufficio Cioè avere un ufficio fuori di casa sarebbe il sogno Però nemmeno tanto, perché mia moglie Siamo talmente tanto attaccati alle nostre cose Che l'idea di avere un fondo anche a 50 metri da casa E qualcuno me lo può aprire e rubarmi tutto di notte Io dormirei o dentro il fondo o a facciata alla finestra Quindi quello che ci interesserebbe di più sarebbe avere un bello ufficio Bello grande, una bella camera da letto matrimoniale Per farvi capire, adibita ad ufficio in casa Dove mettere tutte le nostre cose che vedete iniziano ad essere anche un po' accatastate Il posto è finito Quindi come buoni propositi per il 2021 Il primo sicuramente è al primo posto Ce ne sarebbero altri che vanno prima, sia chiaro Però al primo posto mi tocca E ci devo mettere un ufficio perché il posto per fare i video non c'è più Il secondo Però, secondo perché Direttamente connesso al primo L'ufficio, senza quello non si può fare niente di tutti questi progetti Il secondo è tornare a fare live Però fare live dove giochiamo Che però non abbiamo fatta una sola, vi ricordate quella serie a Zombicide Fare live dove con gli amici giochiamo proprio i giochi da tavolo Magari ogni tanto ci può scappare anche un gioco di ruolo Però il gioco di ruolo L'ascolti, non lo segui bene, capito? Invece il gioco da tavolo Cioè davanti le miniature con magari la telecamera che riprende il tavolo E ti diverte anche di più Immaginatevi un Kill Team in live Magari con la gente in live che te la consigli Ti dice, no, quelle truppe Un le muove lì dietro Prova da girare il nemico E quindi anche interazione con voi Però ovviamente per fare una cosa del genere ci serve Il posto E quindi ci piacerebbe tornare a fare molti più gameplay Perché non voglio che il mio canale sia solo di cosa ne penso e di recensioni Ma vorrei portarvi anche dei gameplay dei giochi Perché per me non c'è modo migliore di presentare un gioco che il gameplay Quando io vado a cercare un gioco Non cerco recensione ITA Cerco gameplay Perché voglio vedere se a livello di regole Mi garba E quale modo migliore per vedere le regole Di vedere una partita vera E proprio perché magari su carta Il gioco è interessante Però poi buttato sul campo È spallante o è troppo lungo, capito? E vi potrei fare tanti esempi Su carta Lobotomy è veramente interessante Quando poi lo va in tavola e ci vai a giocare È impossibile Quindi il modo migliore per scoprire un gioco è quello E ci piacerebbe come buon nuovo proposito Buon nuovo proposito Iniziare a fare più gameplay Ma soprattutto tornare a fare live Il terzo Iniziare a fare anche una cosa un pochino più professionale Andando a ritoccare un po' la grafica del canale I banner Tutto qua insomma Rifarlo completamente da zero Però soprattutto anche l'ambiente circostante Quindi a livello di attrezzatura Basta riprendere col telefonino Che l'Honor 9 ce l'ho sfondata Sono di fare video Basta queste luci da tavolo Ma vorremmo iniziare a fare qualcosa E basta sto microfonino Per quanto è buono, eh Molto buono, devo dire la verità Forse è l'acquisto migliore che si è fatto Per iniziare a fare cose più professionali Magari con un bel microfono da tavolino Magari con delle belle luci che ti riprendono E non ci sono zone d'ombra Magari ogni tanto sfruttare anche il sole Con una bella finestra aperta Che riesce a fare un po' di luce Ecco, quindi cambiare anche un po' Il background E farci un vero e proprio ufficio Cosa che fino ad ora ci è mancata Quindi anche cambiare l'attrezzatura Poi buttandoci un po' di buoni propositi Anche sperando che l'anno vada meglio a tutti Come salute e quant'altro Soprattutto come lavoro Perché mi garberebbe anche iniziare Non vi dico a guadagnarci qualcosa Comunque perlomeno a riuscire a sostenermici Che vada bene anche ad esempio Il negozio di mia moglie Vi lascio il link in descrizione con le stampe Sia in plastica che in resena Quindi quello vabbè è normale ragazzi Prima di tutto la salute Si spera anche che l'anno vada un po' meglio Perché questo 2020 è stato veramente Molto 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 tragico Quindi si spera che di questa cosa Di farla sempre in maniera più pulita In maniera più professionale Già io mi sento di farlo molto A livello professionale Però l'attrezzatura mi limita Quindi non sono a livello di professionalità Che vorrei Ma è normale Perché anche se ora vi volessi fare un gameplay Cioè io sto a sedere qui dietro Ma mia moglie che serve sedere dall'altra parte Del tavolo per giocare Non ha posto perché siamo veramente sommersi Sembravo degli accumulatori compulsivi Con tutta la salute che c'è intorno E quindi abbiamo bisogno di un pochino più di spazio Quindi Ho fatto sto vlog anche per fare una chiacchierata Questi sono i propositi che abbiamo per il nuovo anno Spero un giorno di fare un altro vlog Dove vi dirò Ragazzi vi faccio vedere un tour del nuovo ufficio Ma vi ricordate quel video che avevo fatto mesi fa Che dicevo buoni propositi Speriamo Perché sarebbe quello che ci interesserebbe veramente Ora Una cosa che mi garberebbe fare Che finora un po' mi è mancata Ma anche lì ci stiamo organizzando Oltre a trattare tanto i giochi da tavolo Iniziando a trattare anche le stampe 3D Mi piacerebbe anche iniziare a trattare di più i giochi di ruolo Non trattarli a livello di recensioni che già lo facciamo Però anche a giocarci Cioè oltre a fare video gameplay di un gioco da tavolo Fare anche un video Di una partita a un gioco di ruolo Però anche lì ci stiamo organizzando C'è già qualcosa in atto Un'idea secondo me un po' malsana Ma allo stesso tempo bellina che abbiamo avuto E vediamo se riusciremo a tirarci fuori qualcosa Poi tanto saranno le visualizzazioni e i commenti A farci capire se è una cosa interessante o no Ma per ora non spoilerò niente E voglio che sia una mezza sorpresa Comunque ragazzi dai Fatemi sapere un po' cosa ne pensate Se volete lasciare qualche commento Poi magari vi rispondo nel prossimo vlog E speriamo che il 2021 sia un anno migliore per tutti Perché ce n'è veramente Veramente tanto bisogno Ciao ragazzi alla prossima